ragazzi ma quanto è romantico il contecca scusa che non vuole pagare guardate in che posto mi ha portato è romantico questo uomo ma che è romantico io sto mangiando ora ora vi giro la camera e vi faccio vedere come è combinato aspettate iiii amooo quelli fanno parte del parchetto guardate ragazzi stiamo facendo un bagno schiumoso ma come l'ha trovato sto bnb che stupendo cioè ragazzi la doccia in camera guardate siamo nella camera non la doccia la vasca in camera penso che poche strutture ce l'hanno ma che è compreso nel pacchetto ho capito perché è compreso anche il porta patatine quindi l'aperitivo è compreso Elsa bottiglia la possiamo aprire dopo certo io anche questo mi porto una cosa di spettacolare vabbè porta patatine va bene ragazzi noi adesso andiamo a nanna perché come vedete si sta facendo buio quindi andiamo a nanna e ci vediamo domani mattina e vi facciamo sapere come abbiamo dormito in quel letto scetto ci interessa pensiamo andando domani e poi facciamo anche colazione domani a domani scetto un necchè siamo siciliani e nidapisciunum magari senza parlare un necchè a